E' la regia di Radio Maria qui a New York. E riceviamo i programmi proprio sopra la nostra casa, c'è un grande piatto, e riceviamo l'antenna e riceviamo i programmi dall'Italia. Poi i programmi scendono qui in regia, passano attraverso il nostro mixer e vanno giù con tutti i compressori, vanno giù alla stazione che si trova sull'Empire State, l'antenna. La tavola rotonda di questa sera è presente a Radio Maria il professor Renzo Petraglio, noto biblista proveniente dalla vicina Svizzera. Noi abbiamo la possibilità qui di fermare i programmi dall'Italia per poter andare in onda qui localmente. Allora, difatti, due ore al giorno noi facciamo i programmi locali qui di State Maria New York per poter dare alla gente la possibilità di chiamare, di fare domande, di fare collochi, di pregare insieme. E' la diffusione di Radio Maria a New York, è coperta tutta a New York. Sì, Radio Maria ha un raggio di 60 chilometri, quindi copre tutta la città metropolitana e anche tutte le zone limitrofe attorno alla città, per esempio York, Swiss Chester. Quindi non solo le tre diocesi di New York? Praticamente Radio Maria copre cinque diocesi, perché ci sono le tre diocesi di New York più quella di Patterson e di Newark, che sono dall'altra parte del fiume Hudson, che sono di New Jersey. Però arriva molto bene perché le onde non è che si limitano alle diocesi. Quindi arriva praticamente a tutta l'area metropolitana, la dicono qui, che comprende tre stati di New York, New Jersey e Connecticut. Poi abbiamo l'altra filiale Chicago, che copre tutta la città di Chicago. Abbiamo l'altra filiale di Bridgeport in Connecticut, che copre metà di tutto lo stato del Connecticut e Long Island, perché Long Island è questa lunga isola che arriva lungo l'Atlantico e quindi le onde del Connecticut passano anche sull'isola di Long Island. Regina dei veri cristiani Prega per noi